È stato un campionato lungo sicuramente, comunque quattro giorni di regata sono sempre impegnativi le condizioni del tempo hanno permesso di disputare quasi tutte le prove del campionato quindi comunque c'è stato un bel confronto in una flotta molto competitiva come quella del Radial è stato un campionato difficile ovviamente, è iniziato bene ed è finito, beh, mantenuto la prestazione Quali sono le caratteristiche che secondo te, in base alla tua esperienza, da campione italiano, campione italiano sono le cose che servono per emergere sull'aser, per essere un buon laserista più l'aspetto fisico, più l'aspetto mentale, la tattica L'aspetto fisico e mentale sono fondamentali per questa classe che, vabbè, sì, ti chiede tutte e due è molto importante, comunque, soprattutto per continuare a crescere sempre bisogna amare quello che si fa per lavorare tutti i giorni e migliorare sull'aspetto Cosa vuoi fare da grande? Sicuramente inseguire il sogno del velista e cercare di continuare in studio Sicuramente inseguire il sogno di un'esercito